Buonasera a tutti Diamo inizio a Pagella Non Solo Rock 2017 Qui su questi palchi si sono esibiti Grandissimi gruppi Sono in linea 77, li conoscete? Il nostro carissimo Manuel Agnelli ha dato X Factor Allora, da Borgodora con furore The Struggling I wish I drink some tea And put lots of honey in here I wish I could say I'm sure as a child I'm not because someone told me they don't care Trying to say any predictable things Primo gruppo di Pagella No Solo Rock 2017 Nicolò, batterista Un 60's, diciamo Proprio usciti degli anni 60 Sì, anche quello che Almeno un po' la nostra intenzione Cerchiamo di mettere Un po' quel genere lì Quello degli anni 60 Tale Beat Fare qualcosa di interessante Un 60's ogni tanto Con qualche venatura punk Se vogliamo Se vuoi lasciare un messaggio Iscrivetevi a Pagella Non Solo Rock Perché è divertente Why do you don't understand me You are a blind You are so blind There is confusion in my mind My anger made to me You are blind I'm lost without you I think you do I'm going to the end of my turn I'm going to the end of my turn Allora abbiamo qui il cantante Fontman Simone The Riglets The Riglets Allora, che non vuol dire niente? No, no, è un sentimento di pace Amore, fratellanza The Riglets No, non vuol dire nulla È la parola boccolo soppiata Nella vostra biografia Che troviamo sul sito di Pagella Non Solo Rock Dite proprio che Trattate le tematiche Quelle dei giovani I sentimenti Le emozioni Allora, io seguo molto La frase che disse A Bob Dylan Che fu Parla del tuo tempo Parliamo di temi sociali Trattiamo dall'omofobia Alla bulimia Perché Opless Alla fine è un testo Di una persona Che è arrabbiata Con se stesso Con me Infatti il testo dice Urlo ma nessuno mi sente Bene Lascia un messaggio in camera Stay strong Stay Riglets I see you love to be just like you here Who I am nobody knows All you can see I bless you love to be just like you here I love to be just like you here